Cioè perché è un cane, ed è il mio cane, è un Labrador, ha 13 anni, quindi è come avere Monica Bellucci come fidanzata, diciamo agé ma sempre bella, ed è un cane cieco, nel senso che non ci vede più perché ha delle cataratte che non si possono operare. Scelgo cioè come prima foto perché il cane è il simbolo dell'amore incondizionato, non chiede niente, in cambio, ed è l'archetipo, ed è il simbolo assoluto di un amore eterno per sempre, cioè il cane ti ama comunque. Ho letto molte storie anche di persone che hanno trattato male i loro animali e che comunque ricevono sempre amore in cambio, quindi è bella questa cosa che non è circolare, cioè l'amore ideale è l'amore di un cane perché dipende da te e non ti chiede niente, ti chiede di star vicino e quindi cioè rappresenta la dolcezza, rappresenta la generosità, rappresenta il modo che ogni uomo dovrebbe ipotizzare, dovrebbe riuscire a vivere dando senza chiedere niente in cambio. L'arte, questa seconda foto è in realtà un'opera d'arte che è un alfabeto che non è all'inizio né fine. Il movimento che ho creato nel campo artistico, che è questo movimento per la liberazione delle lettere, nasce da un concetto semplice. Le lettere non sono nate per diventare marchi, ma neanche per essere solo oggetti di scrittura, non servono per leggere o per scrivere. Sono fatti architettonici, compiuti, indipendenti e dunque mi piace celebrare la loro individualità. Come concetto è quasi futurista, se vogliamo, ma di sicuro è molto italiano. Solo dall'Italia può nascere questo senso di liberazione delle lettere, perché l'Italia non è un popolo, ma una massa di individualisti. E dunque noi celebriamo l'individualità, non c'è il senso del collettivo, come in Cina, non c'è il senso dello Stato, come in Giappone in America, c'è il senso dell'io. E allora raccontare l'alfabeto attraverso un'elevazione nel mondo dell'arte, raccontandolo appunto senza legami semantici, senza obbligatorietà, mi sembra un'operazione interessante, che mi racconta molto bene perché c'è questa frammentarietà, questi testeri di mosaico, uno diversa dall'altra, dove ogni lettera ha la sua storia. Che è un po' come i nostri giorni, a me non piace una vita lineare, mi piace fare il collezionista di attimi e ogni attimo è speciale ed unico. Si Single, che cos'è? È un pezzo di design che ho disegnato per Guzzini ed è un vaso da fiori per un solo fiore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i vasi sono nati per la collettività, un fatto sociale. Un vaso da fiori è un contenitore di momenti e tra l'altro noi occidentali li teniamo tutti alla stessa altezza, mentre ho letto un libro, lo Zen e l'arte di disporre i fiori, che presuppone che ogni fiore abbia altezze diverse. La linea della terra, la linea dell'uomo, la linea del cielo e così via. Perché mi piace? Perché è trasparente. In genere guardano gli occhi, in questo caso chi mi sta guardando siete voi, quando parlo è perché la trasparenza è cugina della sincerità. Sono quello che sono, è molto sciocco avere dei prodotti la cui etichetta è più grande della bottiglia. E la ragione per cui mi piace questo vaso è perché finalmente un prodotto viene dedicato ad un target. Non c'è un prodotto che va bene per tutti, questo è un vaso per i single, per chi vuole usare la propria scelta, si può anche essere sposati fuori e single dentro, ma vuole raccontare se stesso attraverso un prodotto. Quindi è un prodotto appena uscito, sembra che almeno il Celine è andato bene, sembra che sia accolto con grande curiosità ed è una scommessa, poiché sono attratto dal contrario di quello che penso, dal contrario di quello che so fare, di un art director che dopo aver preso i marchi e averli elevati al mondo dell'arte prende un oggetto e lo porta nelle famiglie, quindi non più vendere gli oggetti dagli altri ma cominciare a crearli di propri. Parliamo di human intelligence perché parliamo di intelligenza artificiale e dunque è il rapimento dell'attimo di questa tensione eccessiva che diamo ai big data, all'intelligenza artificiale che ci fa ritornare a riconsiderare quanto importante è il pensiero umano, quanto importante sia la capacità di elaborare. Nella human intelligence ci trovo delle facoltà cognitive fantastiche, la prima è la percezione, la realtà non è quello che vediamo, è quello che noi percepiamo e la seconda è quella di rielaborazione. Scelgo questa foto perché è una farfalla, si può non solo decorare, disegnare in mille modi, ma in questo caso è la leggerezza stessa, una bolla di sapone che per sua natura vola diventa ala di farfalle, in questo caso diventano quattro bolle che prendono la forma di un'ala di farfalla e che stanno attaccati in un corpo reale, quindi di nuovo la congiunzione tra fantasia e realtà, tra emisfero destro e sinistro, tra immaginazione e concretezza. La human intelligence ha questo di grande vantaggio, che rielabora cose che nessuna macchina potrebbe fare. Grazie a tutti.